Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo insieme le caratteristiche di una razza originaria dal Belgio, dall'aspetto molto caratteristico, il griffone di Bruxelles. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like, in questo modo aiutarei il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Il griffone di Bruxelles è una razza che in passato veniva utilizzata in Belgio come cane da caccia per piccoli roditori. Era molto popolare tra i lavoratori per la sua indole giocosa e la capacità di adattamento alla vita d'appartamento. Successivamente, grazie al suo aspetto elegante, venne apprezzato anche dalle classi nobili e questo diede il via alla sua diffusione. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, si tratta di una taglia piccola, con una testa grande e arrotondata, e il muso schiacciato caratterizzato da una folta barba, tipica di questa razza. L'altezza algarrese varia dai 18 ai 20 centimetri, mentre il peso varia dai 3 ai 5 chili. Il mantello del griffone di Bruxelles è costituito da un pelo denso e ruvido ed un sottopelo soffice che lo protegge dal freddo, ed è possibile trovarlo in diverse colorazioni, tra cui il fulvo, il nero, nero e fulvo e il blu. Parlando del carattere, il griffone di Bruxelles è molto attivo e giocoso, perfetto come cane da compagnia per le famiglie con bambini. Si tratta di un cane molto intelligente che è famoso per la sua capacità di adattamento in ogni ambiente e situazione. Si legherà moltissimo alla sua famiglia dimostrando ogni giorno il suo grande amore. Data la sua lealtà verso il nucleo familiare, è probabile che il griffone di Bruxelles possa sviluppare un atteggiamento protettivo e rumoroso, nel caso percepisca una minaccia. Questo atteggiamento può essere gestito in tranquillità attraverso un percorso di educazione e socializzazione. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane, o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un uovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Se state cercando un cane da compagnia affettuoso e vivace, il griffone di Bruxelles è sicuramente una delle razze che fa per voi, anche se siete alle prime armi ed inoltre un'ottima scelta anche per le persone anziane. Sarà fondamentale ricordarsi che comunque è una razza che richiede cure ed attenzioni. Ha bisogno di regolare esercizio fisico, di una dieta equilibrata ma soprattutto di una costante cura del pelo. Questa razza ha un'aspettativa di vita che varia dai 12 ai 15 anni. Essendo una taglia piccola è un cane delicato che può soffrire di diverse patologie e avendo il muso schiacciato sarà importante monitorare le possibili problematiche respiratorie. Come per ogni cane sarà fondamentale affidarsi ad allevatori seri ed effettuare controlli periodici dal veterinario, garantendo una dieta sana e bilanciata e un'adeguata attività fisica. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità sul griffone di Bruxelles. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremmo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao! Ciao!